Sono Nicole Bonora, titolare dell'azienda Corte Domina, situata nel comune di Radda. L'azienda è totalmente biologica nel rispetto dei nostri vigneti, cerchiamo di ridurre le lavorazioni meccaniche al minimo possibile, sia per rispettare il vigneto e il suo sottosuolo, sia per valorizzare la professionalità dei nostri collaboratori. Il vino di Corte Domina è il trasformare di una passione nell'oro rosso del Chianti, quindi in una bottiglia, è racchiuso tutto quello che significa i Chianti e la cantina per noi. Il nostro percorso nel mondo del vino è stato inaspettato, ma totalmente evoluto, e da una scintilla, un'idea, una passione, è sgorgata tutto quello che è Corte Domina adesso. Amici è il nostro Chianti Classico Riserva, è il mio vino preferito perché è dedicato a me.